Possiamo sicuramente parlare di brevetti e come molti sottolineano i brevetti forse non sono sufficientemente numerosi in questo paese. In realtà, come tante università, molti uffici del trasferimento tecnologico hanno già capito, non servono tantissimi brevetti. Servono quelli buoni, buoni nel senso dei validi, se possibile molti brevetti, poi si scopre magari che non lo sono posteriori, con una scienza alla base il più possibile inattaccabile e ovviamente poi vanno difesi perché credo che all'inizio le università fossero anche contente per vari motivi anche amministrativi di avere un gran numero di brevetti, si è capito poi che c'è un costo nella brevettazione se poi uno non ha le risorse per difenderli attivamente. Il brevetto è una cosa meravigliosa, è un monopolio, è una cosa che succede pochissime volte nell'ordinamento di avere un monopolio legale, però ovviamente se uno non lo usa serve assolutamente a poco. E quindi credo che appunto tutti i soggetti che hanno a che fare con innovazione abbiano poi alla fine questo dilemma, brevettare peraltro è un modo di condividere perché nel momento in cui si brevetta, certo c'è il monopolio nel senso che solo tu, l'inventore lo puoi utilizzare, lo puoi dare ovviamente in licenza, però in cambio devi raccontare a tutto il mondo come hai raggiunto una certa soluzione tecnologica. Io volevo fare un passo indietro collegandomi a quella che è la mia personale esperienza, io sono socia di uno studio legale che si chiama Italy Legal Focus che si occupa di diritto commerciale e societario, i nostri clienti sono per lo più nel campo delle nuove tecnologie per cui diciamo le frequentiamo, però abbiamo anche fondato un'associazione non profit che si chiama SISB, Società Italiana per lo Studio delle Biotecnologie, dove abbiamo tentato nel nostro piccolissimo di mettere le persone intorno a un tavolo, peraltro c'è una cena sopra il che un po' aiuta, proprio per cercare di affrontare questo problema culturale che è già stato menzionato un paio di volte in questa tavola rotonda e di provare a iniziare a fare un processo di condivisione, sapendo che ovviamente si tratta di un processo molto lungo, però devo dire che noi in pochi anni, perché l'abbiamo iniziato quattro anni fa con una certa frequenza, abbiamo ottenuto qualche risultato, le prime cene noi abbiamo pensato che per esperienza personale conoscevamo l'impresa, il capitale e la ricerca, ovviamente alcune persone che potevamo però cominciare a far parlare. I primi incontri erano abbastanza, diciamo, insomma si capiva che si parlavano lingue completamente diverse, il ricercatore diceva chiaramente ma io non capisco questi della finanza, mi vogliono dare 5 milioni, vogliono sapere esattamente come li devo spendere. Io ho bisogno di uno strumento, costa 100.000 euro, non riesco neanche a immaginare come si svilupperà la mia scienza se non ho queste prove e quindi ovviamente i capitalisti dicevano ma questi imprenditori non hanno questa visione globale appunto che potrebbe avere la Soaring o una grande società, non riescono a pensare in grande, vogliono 100.000 e io ne do 5 milioni e così si cominciava a darsi un po' la croce addosso, cioè colpa tua e colpa tua e colpa tua. Alla fine effettivamente invece abbiamo visto che qualcosa si impara perché tantissimi venture capitalist hanno spiegato che cosa cercano e perché lo cercano e perché ci sono certi tempi, non è che sono cattivi o non capiscono necessariamente la scienza, magari alcuni non lo capiscono anche, però diciamo il motivo per cui si guarda di solito a un panorama di 5 anni è un motivo di tipo finanziario molto preciso e quindi non è una cocciutaggine culturale, però aiuta anche i ricercatori a capire queste motivazioni e viceversa, per cui io credo che è vero che i processi culturali sono molto lenti e alle volte fanno magari perdere un po' la pazienza, però in questo campo, soprattutto nel campo del trasferimento tecnologico, io nella mia vita professionale appunto non lunghissima, ho visto dei cambiamenti pazzeschi, quindi mi sento anche di essere ottimista come la professoressa, di dire che è vero ci sono dei segni di vitalità, è un momento probabilmente unico, dieci anni fa molte cose non erano pensabili, i professori universitari probabilmente non sono stati trasformati in imprenditori, magari ci vorranno un paio di generazioni, però cominciano a pensare che esiste anche l'impresa e quindi è una cosa che credo poco tempo fa non era pensabile, quindi io ho visto una trasformazione relativamente veloce anche dal punto di vista culturale in questo settore, non so se gli altri vogliono confermare.